Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo video di Digimon War 2003 qui col vostro Vale 93 Ba. Allora, oggi andremo a cercare la fabbrica Doom Doom, o Dam Dam, non so come si pronunci. Allora, ho davanti Renamon perché vorrei far allenare un pochettino anche gli altri Digimon. Non so se vedete ma c'è Agumon che spacca i culi a livello quasi 70 se non sbaglio, mentre gli altri sono fermi al 30-35. Allora, fabbrica Doom Doom dovrebbe essere, se non erro, qui. Vediamo. Yes, fabbrica Doom Doom. T'ho un Numemon. Ehi, Numemon! Sei tu? Perché sei tornato? Vorrei chiederti una cosa, posso? Non ho nulla da dirti. Così. Ci ha... Aspetta! E' andato. Allora. Dunque. Nel frattempo, qui... Ah, stavo allenando Fenixmon, giusto? Vabbè. Dovrei comunque far del male a sti tizi. Eh, dai. Due colpi e vanno giù, non è male, dai. Madonna, Renamon, però, eh. Che poi, tra le altre cose, ha una mossa Fenixmon che riporta tutti gli HP al massimo. Quindi praticamente può distruggere da solo i team. Ah, sì, che è arrivato a livello 45. Cercherò di farlo arrivare al 99, anche se... Non so fino a quanto può essere utile. Ohi, che sta succedendo? Ah, è in quella porta? Ok, in quella stanza laggiù. Va bene. Vediamo di raggiungerlo. Non so perché stiamo ricercando questo schifoso Numemon. Sala Tubi 01. Che c'è? È scomparso. Uh, strano. Numemon non è qui. È già, genio, non è qui. Ehm... Sì, ho un chip PF. Grandissimo. Proprio quello che volevo. Ok, adesso... Ok, adesso... Eh, qui ci sono stato? Ah, praticamente continua... Continua di qua. Ok. E io devo andare a cazzo per tutto... Non mi piace sta cosa. Allora, di qua che cosa abbiamo? No. Niente da fare. Mmm... Ah, ti ho beccato, Numemon. Ok, eccoti qui. Non ti lascerò scappare questa volta. Dovresti rinunciare. Come è fatta a trovarsi qui, comunque? Eh, andiamo a beccare questo Numemon di merda. Che cerca di sfuggirci senza sapere che non ce la può fare. No, di nuovo. Che palle. Ho un chip mentale. Wow. Che bello. Però ho notato... Che andando in giro, su questi cosi a terra, con le freccette... Ogni tanto si blocca. Nel senso che quando sto andando bene, che magari trovo Numemon, si blocca un attimo e fa l'animazione. Vaffanculo. Sti Digimon selvatici. Che mi rovinano la piazza. Agurumon. E vabbè, Agurumon. Tu vuoi proprio... Morire molto male, Agurumon, eh? Eh, vabbè. L'ha voluto lui, ragazzi. È inutile che me lo dite. L'ha voluto lui. Ok. Vai, livello 46. Ok. Ok, perfetto. E no. Non stiamo andando bene. Non so per quanto tempo andrà avanti sta storia di... Ecco. Di andare su determinati punti. Ma spero che finisca molto presto. Perché mi sto già rompendo le balle. Eccolo! Sì. È proprio lui. Allora, devo andare di là. Perciò... Di qua. Ok. Sala tubi 2. Ovviamente. CPM. Allora, abbiamo fatto sala tubi 1, 2 e 4, se non sbaglio. 1, 2 e 4. Teoricamente... Dovremmo... Fermarci prima o poi... Alla 3. E alla 5, se ce n'è. Spero che finiscano a 5 a sto punto. Affanculo. Dai! Fottuto Agurumon. Agurumon di merda. Poi guardalo. Non fa nulla di utile Agurumon. Fa solo speed up. Sì, vabbè, bravo. Andiamo. Non ho tempo da perdere. Allora... Sarà una lunga, lunga giornata, non è vero? Eh, già. Lo sarà. Lo sarà e come. Allora... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Numemon? Cosa vuoi da lui? Devo assolutamente chiedergli una cosa. Su, dimmelo. So dov'è, ma non posso dirtelo così. Qui possono entrare solo i più forti. Se vuoi vederlo, devi prima battermi. La legge del più forte, no? Sempre. È sempre lei. Allora, vediamo un po'. Ecco, vedete? Ha due tecniche per il momento e sono Full Hell, Full Heal, cura quasi tutti i PF del Digimon e cura quasi tutti i PF di un alleato, Final Heal. Quindi, tra tutte... Non lo so quanto sia forte sto Iandermon. Nel dubbio, vediamo un po'. Se riusciamo a resistere a un suo attacco. Madonna! Brutta merda, par! Madonna santissima! Hai capito ad Agumon? Ok. Ecco perché non uso Agumon direttamente negli scontri. Vinci facile. Rispetto la tua forza, puoi passare. Numemon è nelle fogne oltre le scale segrete. Ti ho aperto la porta per le scale segrete. Vai, ma prima prendi questo vecchio fucile. Ho il vecchio fucile, wow! Bene, Iandermon. Grazie, vado. Il nemico sarà più forte da qui in avanti. Beh, basta che me lo dici. Ok. Ehm... Ah! Che c'è? Oh! Ecco Numemon! Oh, adesso è qui dentro. Allora non farò altro che seguirlo. Bravo ragazzo. Seguiamo il maledetto Numemon. Dovunque stia andando. Ehm... Traverò dei Digimon qua? Suppongo di sì. Ma non si sa mai. Fogne. Semplicemente. Wow! In ogni gioco ci devono stare le fogne, eh? Come in Amnesia. Ehi! C'è la T, pallano. Mi ricordo il nome. Forse ha bisogno di... Di una mano. Boh, mi piacciono un sacco però queste ambientazioni. Con le pogne. Che c'è? Strano, Numemon non è qui. Ah! Aiuto, aiuto! Cosa? Cosa è stato? Se beve qualcuno. Eh. Warumonzaemon. Sei così bella! Sposami! No! Non amo i mostri! Oh oh! Ma è... Lisa! Ehi, ehi! Sei Vale, vero? Aiuto una damigella in difficoltà. Va bene, eccomi. Beh. Ah, proprio animazione lentissima di lui che fa l'entrata trionfale. Ehi, Warumonzaemon, prenditela con i tuoi pari. Chi sei tu? Via dai piedi! Oh, ti pentirai di averlo detto. Madonna, un altro boss, subito. Vediamo un po' se Warumonza è più forte. Eh, sì, dai. Sembra di sì. Madonna! No, Renamon. Devo subito cambiarlo. Perché sennò qui... Sono cavoli amari. Ok. Che cacchio è? St'attacco non l'avevo visto. Che... Che cosa sta succedendo? Comunque l'ho parato. Quindi prendi e porta a casa, stronzo. Gravi danni dalle macchine. C'è anche Mega Heal. Ma no, dai. Andiamo con la lotta normale. Ah, tra l'altro ho dato a Agumon questo oggetto che cura dei PF. Ogni tanto, quando fa degli attacchi. Oh. Tutto qui in Mechanical Bash. Vabbè. Ok, bene così. Mi sa che è a livello 50 Imperial Dramon, dai, la Paladin Mode. Wow, Vale, sei in gamba. Sono colpita. Aha. Eh? Oh, sì, grazie. Comunque, perché sei qui, Lisa? Bella domanda. Lo dico io. Che ci fai tu qui? Io? Io? Voi due siete qui per parlarmi, no? Cioè? Ah, Numemon. Eccolo qua. Finalmente. Ah, Nu-nu-nu-numemon! Calma, Lisa, sono io. Cioè? Cosa, Numemon è umano? Ora capisco. Non spaventarmi più così, topofortunato. Cosa, lui è topofortunato? Quel Numemon è lui? Eh, passi Lisa. Ma tu eri stato avvisato, ragazzo. Che cazzo vuol dire? Qui è pericoloso. Andiamo nel mio rifugio. Ma questo è il pericolosissimo hacker che ha chiuso l'uscita di Digimon World. Allora questo è il rifugio di... Dov'è Teddy? Ora dov'è? Teddy? Ah, il ragazzo che ha scoperto il mio account? Io non c'entro. È stata la OA. Cosa? Che vuoi dire? La signora del gioco di Asuka dice che l'hai catturato tu. Lei è un agente di punta della OA. E poi la Magami non è altro che la OA. Molti suoi membri sono nel server di Asuka. Allora la signora del gioco mente? Devo salvare Teddy. Anche io ero nello staff di Digimon Online. Ma quando ho capito che cosa succedeva, era troppo tardi. Ma cosa vuole la OA? Assicurarsi il dominio su Digimon Online. Poi potrà controllare la rete in tutto il mondo. Ah. Non è certo una bella notizia, accidenti. Controlleranno tutti i computer del mondo. Per questo ho causato il malfunzionamento del sistema. Nessuno potrà collegarsi per un bel po'. Ah. Ecco perché non si può tornare nel mondo reale. Chi è? Ah 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 ah! Ci hai creato molti problemi! Ma grazie a ragazzo i nostri piani sono ripartiti! Chi è? No! La tipa! La... Kyle! Kyle? Kyle! Come fa a conoscerla anche troppo fortunato? Vale! Kurt! Cosa? Cosa? Allora il fratello di Kyle è... Sì, il mio vero nome è Kurt. Sono suo fratello. Ma come ha fatto la OA a trovare questo posto? E perché Kyle? Abbiamo seguito il ragazzo da Asuka. Anche lei lo seguiva. Poi l'abbiamo presa. Lasciatela! Non così in fretta. Dobbiamo prima metterci d'accordo. Ridacci quello che hai rubato e sarà libera. Cioè? Va bene, ecco qua. Che cacchio è quella roba? Molto bene! Ah 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 ah! Finalmente torna a casa! E che... Scusate se Skype... Se Skype rompe i coglioni però... Mi son dimenticato di disinstallarlo. Ok, una promessa è una promessa. La lascerò libera. Kurt! Vale! Godetevi questi momenti. Siete tutti spacciati ormai. Attenzione tutti! Ah! Kurt! Ah! Ah! Che cos'è? Inutile! Ormai è un Digimon! Ma che Digimon di merda è? È un... Un salvadanaio-mon! A forma di maiale, no? Diventerete tutti... Oink-mon! E sarete inchiusi! Avanti un altro! No! Ti prego scegli uno diverso da un oink-mon! Non ho più energia! Allora venite, miei Digimon! Oh beh, te la sei cercata! Se vuoi combattere, eccomi qua! Quanti combattimenti in questo... In questo video? Allora... Dunque, io direi Full Heal. Ha solo due Digimon, sto tipo. E non prevedo siano manco chissà quanto forti. Vediamo, magari mi sbaglio. Oh, ultimamente Renamon non mi schiva manco un colpo. Manco a pagarlo. E muori, Monzaemon. Ah, quindi Waru Monzaemon è l'evoluzione di Monzaemon. Non è tipo... Come... Tipo MetalGreymon e SkullGreymon. Che c'è quella sbagliata, per molte fila di virgolette. Oh, non lo so. Nanimon, madonna! Imbarazzantissimi, sti Digimon, eh? Più brutti non ce ne potevano capitare. Madonna! Picchia più forte, Nanimon, eh? Con tutto che è più brutto e più schifoso. Eh, però è anche più debole su. Visicamente, intendo. Va bene. E beccati questo! Ok. Dai, su. Basta. Uh, guarda là, Phoenixmon che aumenta. Mi sto chiedendo se Phoenixmon impari una mossa d'attacco. Boh, chissà. No, no! I miei Digimon! La pagherai per questo. Se è certo, intanto scappa a gambe elevate. Grazie, Vale, mi hai salvato di nuovo. Ma Kurt, pensavo di averlo trovato, invece... Oink, oink! Ok, ho deciso. Andrò alla città di Asuka. Salverò Teddy e liquiderò la signora del gioco. Sì, sconfiggiamo l'AoA. E riportiamo Kurt com'era prima. Ora speriamo. Sì, lo voglio anch'io. Ma non voglio il panico generale. Puoi mantenere il silenzio sull'AoA? D'accordo. Ok, Kyle, vado. Senti, se perdi non te lo perdonerò mai, capito? Buona fortuna, tifo per te. Oh, grazie ragazzi. Ma a proposito, dov'è che sto? Ah, sempre nelle fogne? Oh no, quindi me la devo fare tutta indietro. Ehi, Warumon Zemon! Magari ha qualcosa da dirmi? Oh mio Dio. Via! Via dai Sucamon! Ho un odio spasmodico per i Sucamon, che risale al primo Digimon World. Non volevo ferire nessuno. Volevo una bella moglie. Aha. Tutto qui. Ok. C'è Pedobear. Travestito da Warumon Zemon. Che vuole solo una bella moglie. Non vi preoccupate, ragazzi. Ok. E... Dovremmo essere... Scale segrete. Ah, sì, adesso c'è una scorciatoia, se non sbaglio. Dovrebbe essere proprio... Proprio qui. Ops, non di qua. Sì, un po' una noia il fatto che bisogna sempre andare indietro, andare a scovare. Che cosa succede? E vabbè. Che poi comunque... Non lo so se a voi piace, ma la trama è un po'... Così e cosà. Ma... Vabbè. Allora... Vediamocene da qua. Ora però, mi devo ricordare, per andare ad Asuka, se non mi ricordo male, esiste una scorciatoia. Ovvero, utilizzare in determinati punti il Submarimon. Però non mi ricordo precisamente dove. Perciò... Oh! C'è un piccolissimo calo di primer. Ok. Sembra si sia risolto da solo. Benissimo. Allora, se io vado da qua... Perfetto. Ah, maledizione. Corri via. Allora... Facciamo una bella cosa. Adesso vado... Vado all'oasi. Terminiamo qui questo video. Nel prossimo scopriremo come arrivare ad Asuka. E quindi si suppone che scopriremo dove è Teddy e liquideremo la tizia dell'AoA. Perciò ragazzi, ricordate di mettere mi piace, commentare e mettere nei preferiti se volete perché mi aiuta tanto. Iscrivetevi se vi va. E un ciao qui dal vostro Vale93Va. Ciao! 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 Grazie a tutti.